ben ritrovati qui sulle fonti tv siamo pronti con una nuova puntata di doppio binario argomento del giorno gabriele parleremo di welfare direi risorse umane dei cambiamenti che ci saranno con questo nuovo esecutivo e lo faremo grazie come sempre ai nostri ospiti beh allora tra poco un saluto a tutti gli amici di doppio binario questa puntata di oggi come anticipato in apertura parleremo di un argomento di grande attualità ovvero del nuovo governo draghi che si è appena insediato e andremo a vedere insieme ai nostri ospiti sia in collegamento che qui in studio insomma qual è il mercato del lavoro che si presenta il quadro del mercato del lavoro che si presenta oggi proprio di fronte al governo draghi lo facciamo oggi con il nostro ospite che qui presente al mio fianco in studio e saluto il professor avvocato francesco mendolito docente di diritto del lavoro e founder dello studio legale mendolito e associati ben arrivato buonasera grazie e in collegamento invece saluto il dottor fabrizio chines chairman e sio di sifi group ben arrivato tra noi buonasera grazie per l'invito bene io inizierei proprio dal dall'avvocato mendolito dunque come anticipato in apertura nuovo governo draghi se ne parla tantissimo in questi giorni qual è lo scenario del mercato del lavoro che si trova di fronte in questo momento il governo draghi per tanti motivi non vorrei stare al posto di draghi diciamo che dopo anni un paio di anni di inattività completa perché anche prima della pandemia non c'era stata una produzione normativa a sostegno del mercato del lavoro così come oggi le imprese in mercato richiedono poi c'è diciamo c'è stato il problema pandemia e quindi chiaramente il futuro e diciamo abbiamo di fronte è un futuro in salita credo che il primo impegno sarà quello non soltanto di stabilire in che maniera determinare la normativa in materia di recovery fund praticamente dovrà mettere mano ad una seria riforma e modifiche delle normative esistenti attualmente nell'ambito del mercato del lavoro del diritto del lavoro del diritto sindacale le imprese stanno aspettando hanno fame di un cambiamento senza il quale credo che sarà molto molto dura il futuro ragazzi io allora questo punto che andiamo a chiedere al dottor kines come si stanno organizzando come vi state organizzando voi sotto il profilo dell'organizzazione delle risorse umane in questo momento di pandemia poi naturalmente vorrei anche fare un paio di domande qualche domanda anche all'avvocato di nuovo a mendolito insomma proprio su questo argomento inizio ecco come vi state organizzando oggi allora la nostra è un'azienda del sud è un'azienda farmaceutica lo dico perché queste peculiarità permettono di inquadrare le nostre azioni alla luce dell'attuale contesto come noto le aziende del sud stanno beneficiando di una decontribuzione che sicuramente aiuta a reggere l'impatto della crisi è meno marcato nel nostro settore che in altri quindi da un punto di vista dell'organizzazione aziendale le nostre preoccupazioni oltre a quelle di natura economica sono state riguardo la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso l'adozione dei protocolli di sicurezza anti covid già direi sperimentati da diversi mesi che ci hanno portato anche in alcuni casi di positività al virus a una completa stabilizzazione dei nostri ambienti lavorativi sia quelli produttivi che quelli diciamo ad uso ufficio ovviamente abbiamo fatto ricorso avanzato allo smart working oggi il personale che si dedica ad attività manageriali e amministrative a fino a tre giorni alla settimana di smart working ed evidentemente questo è stato reso possibile grazie all'adozione delle tecnologie digitali che non consentano soltanto una collaborazione tra colleghi attraverso strumenti tradizionali ma anche investendo in delle piattaforme proprietarie per consentire la il lavoro agli informatori scientifici del farmaco che oggi hanno a disposizione uno strumento proprietario che gli permette di svolgere il lavoro in remoto facendo informazione scientifica verso il nostro target di riferimento che sono gli oculisti detto questo che riguarda l'organizzazione delle esistenti risorse umane e andando a vedere quello che è il mercato noi abbiamo avuto una situazione abbastanza paradossale ovvero sia al netto delle temporanee riduzioni dell'orario di lavoro attraverso il ricorso ad una cassa integrazione nei mesi più pesanti della crisi abbiamo oggi una difficoltà a mantenere un certo delle certe scadenze temporali nell'assunzione di alcune figure chiare in realtà stiamo notando che il mercato del lavoro è bloccato sia in senso positivo che in senso negativo cerco di spiegarli meglio data l'elevata situazione di incertezza alcune figure professionali hanno una certa remora a investire e prendere rischi nel cambiamento magari di città di aziende o di ruoli e questo in qualche modo ha un po' ingessato il mercato del lavoro dall'altro lato quindi in senso negativo percepiamo non soltanto della nostra popolazione aziendale ma in generale anche confrontandomi con altri colleghi manager o imprenditori è effettivamente la scadenza di fine marzo in cui dovrebbe sospendersi dovrebbe terminarsi il blocco dei licenziamenti è sicuramente una cosa che in genera particolare apprezzione diciamo nel mondo del lavoro quindi ci sono queste due tendenze che direi un po' contrastanti ma che rendono sicuramente molto sfidante la gestione delle risorse umane e il lavoro delle aziende anche in funzione di eventuali necessità di organizzazione la ringrazio molto interessante il suo intervento poi naturalmente ritornerò da lei per una domanda conclusiva ritorno invece come detto prima all'avvocato mendolito dunque allora si parla un po di criticità quali sono diciamo le priorità programmatiche che dovrebbe avere questo nuovo governo draghi sotto il profilo naturalmente del mondo del lavoro per aiutare a uscire insomma fuori da questa crisi un po' il nostro paese il dottor Kines appunto mi ha anticipato perché ha parlato appunto sia di positività che di negatività il periodo pandemico ha evidenziato innanzitutto la bontà diciamo dell'uso l'utilità dell'uso anche dello smart working che però appunto essendo stato normato da una legge del 2017 a mio modo di vedere necessita di un intervento le aziende nell'aspetto pratico e nell'attuazione pratica dello smart working sia pure nell'ottica della deregulation operata dai vari decreti che si sono succeduti nel periodo pandemico hanno evidenziato come è necessario intervenire su alcuni punti uno di questi per esempio il potere di controllo del lavoratore in smart working e anche poi l'utilizzo diciamo più attento del diritto alla disconnessione che diciamo a cui l'Europa ci tiene molto e comunque diciamo importante garantire questo diritto alla disconnessione del lavoratore in questo momento le aziende stanno operando da sole attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello la contrattazione collettiva aziendale per cui stanno mettendo mano diciamo ad una sorta di restyling dell'istituto ad uso e consumo proprio diciamo così però ecco sul punto forse non sarebbe male un intervento legislatore anche in materia di cassa integrazione e guadagni citata dal dottor Kines ovviamente è emerso quanto sia necessario di intervenire per ulteriormente andare a riorganizzare e rimodulare la disciplina dell'integrazione salariale soprattutto creando un'univocità diciamo di intervento per tutte le aziende nel sistema economico italiano. l'altro problema annoso è quello appunto citato anche questo dal dottor Kines lo stop ai licenziamenti il 31 che comunque rispetto al quale io sono stato voi lo sapete perché insomma ho avuto modo di dirlo anche in questi studi diciamo sono stato sempre molto critico sull'uso che si è fatto abnorme e distorto diciamo in un periodo così prolungato del dello stop senza una differenzazione tra aziende e aziende perché dico questo perché prima della pandemia c'erano aziende erano già in crisi che avevano presentavano già degli esuberi e sono state costrette a bloccare molte procedure di mobilità anche in essere quindi diciamo procedure ex procedure di mobilità procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa fa sì che abbiamo una pentola a pressione che fra un po' esploderà e il 31 marzo molto probabilmente avremo dei problemi in questo senso di immissione nel mercato di nuovi disoccupati per cui l'ulteriore sfida per il governo Draghi a mio modo di vedere quindi non soltanto porre mano a queste modifiche ulteriori macchiaggio della normativa ma credo sia necessario intervenire molto in quello che è la tutelazione anche formativa dei nuovi disoccupati molti lavoratori anziani hanno difficoltà a conformarsi alle nuove skills necessarie dove non soltanto le hard skills ma anche le soft skills prendono sempre più il sopravvento in un mercato in cui esplosa la digitalizzazione quindi la fase della cosiddetta quinta rivoluzione industriale e quindi diciamo anche in quest'ottica il governo Draghi dovrà operare dopodiché io spero che il governo Draghi abbandonerà un pochino l'ottica assistenzialistica che il governo Conte ha portato avanti pensate al reddito di cittadinanza hanno sempre solo calcato la mano sul reddito di cittadinanza e a mio modo di vedere hanno fatto pochissimo per uno sviluppo economico del paese e automaticamente quindi per uno sviluppo del lavoro dell'occupazione e quindi uno sviluppo del mentalizzato del lavoro in generale ecco la ringrazio molto molto interessante anche perché voglio dire come ha accennato appena detto lei questo sviluppo improvviso insomma questa digitalizzazione quasi obbligatoria che si è avuto in questo periodo dovuta anche al fatto che tanti dovranno adeguarsi anche in maniera molto repentina e quindi hanno anche una certa disponibilità all'interno dell'azienda a queste nuove dinamiche non è semplice oltre a tutte le problematiche che ne sono connesse che tra un po' appunto ci sarà questo problema anche sulla disoccupazione da risolvere un'ultimissima domanda invece al dottor Kines prima di chiudere quali sono le criticità maggiori che avete affrontato e che state affrontando in questo periodo proprio sotto il profilo appunto dell'organizzazione del personale se ci vuole dare una panoramica su quella che è stata la vostra esperienza Sì intanto condivido quanto detto dall'avvocata Mendolito sulla situazione delle aziende e per quanto ci riguarda vorrei sottolineare un paio di aspetti l'industria farmaceutica in generale e la nostra azienda ha un elevato tasso di scolarizzazione quindi l'affrontare le sfide della trasformazione digitale ha comportato un elevato ricorso alla formazione anche e soprattutto in ambito di trasformazione digitale ed è un qualcosa che stiamo portando avanti anche nel 2021 questa è una via che diventerà sempre più inevitabile sia per le conseguenze della pandemia ma anche per una maniera diversa di interagire tra i diversi portatori di interesse e ovviamente io parlo dell'industria farmaceutica ma la trasformazione digitale è un qualcosa che ha già investito altri settori e noi non siamo certo dei pionieri l'industria farmaceutica è sicuramente un'area in cui si investe molto in ricerca e sviluppo ma più nello sviluppo di soluzioni terapeutiche che in modelli di business innovativi che tragano spunto dalla trasformazione digitale ecco questa è una delle criticità che noi stiamo vedendo ma allo stesso tempo come dietro qualsiasi minaccia noi vediamo l'opportunità essendo un'organizzazione relativamente piccola di cogliere questa opportunità trasformando la nostra maniera di operare e cercando di essere maggiormente competitivi in una logica di focalizzazione sulle esigenze del cliente piuttosto che sulla strategia di brand che ha tradizionalmente caratterizzato il modo di operare dell'industria farmaceutica e questa pur essendo un'opportunità richiede un forte investimento nelle soft skills come è stato detto il change management, l'adozione di nuovi strumenti digitali e ovviamente una maniera diversa di fare le cose questa ovviamente richiede da un lato l'impegno da parte dell'azienda, del vertice aziendale ma anche la disponibilità di tutte le persone che lavorano in azienda al cambiamento e questo è chiaramente una problematica soprattutto sulle fasce più anziane dei lavoratori che hanno banalmente meno dimestichezza con gli strumenti digitali ma anche una maggiore resistenza al cambiamento perché per metterla in termini molti ospicci quindi se ho fatto determinate cose per 20 anni in una determinata maniera perché dovrei adesso cambiare? certo la pandemia è un forte stimolo a farlo ma tutte le sfide e le criticità nel portare a bordo tutti i colleghi è sicuramente una criticità per il prossimo futuro molto interessante la sua testimonianza la ringrazio perché ovviamente questo purtroppo la prima parte di doppio binario è giunta al termine io ringrazio appunto lei, il dottor Kines per il suo intervento in questa prima parte di doppio binario la saluto grazie e saluto a tutti voi grazie ancora e ovviamente ringrazio il professore e avvocato Amendolito che comunque resterà qui con noi in studio per la seconda parte di doppio binario grazie a voi bene pochi istanti di pubblicità e poi rientriamo qui in studio ancora una volta per approfondire questa tematica restate qui con noi e a troppo rieccoci in studio per la seconda parte di doppio binario continuiamo a parlare delle prossime sfide per il mercato del lavoro che dovrà affrontare il gioco forza il governo Draghi e lo facciamo con i nostri ospiti e vi presento il professore avvocato Francesco Amendolito founder di Amendolito Associati ancora qui con noi buongiorno e benvenuto buonasera e il dottor Alfredo Lombardi Labor Relations Director Italy di Tacheda Italia buongiorno e benvenuto in collegamento buongiorno a lei e grazie dell'invito ecco grazie a lei per essere qui con noi anche se in collegamento io parto da lei avvocato Amendolito e le chiedo facciamo tra virgolette un passo indietro e vediamo quello che ha lasciato il governo Conte di aperto insomma le prossime sfide che dovrà affrontare il governo Draghi sempre ovviamente in materia di lavoro e le chiedo ha lasciato solo macerie diciamo che ha lasciato prevalentemente macerie forse ha avuto il pregio grazie all'emergenza pandemica e quindi diciamo alla regolation che ha portato avanti in materia di smart working quindi diciamo su quel punto di vista ci ha fatto scoprire un istituto che fino a poco tempo fa diciamo era poco utilizzato scarsamente utilizzato dall'azienda però magari poi di questo ne parleremo più in là perché chi mi conosce sa che io sono stato sempre molto critico con il governo Conte perché ho letto sempre in tutte le norme in materia di mercato del lavoro e di diritto del lavoro questa diciamo predominanza della parte assistenziale diciamo quindi dell'azione del governo in un'ottica assistenziale e non invece in un'ottica di di creazione di normativa a sostegno delle imprese e sappiamo tutti che ci sono hanno centralizzato diciamo il loro operato in quello che era il il reddito di cittadinanza nell'ultimo periodo sono emerse poi tutte le falle di un sistema che necessitava invece di un intervento di riforma o di modifica comunque della norma stessa in primis penso alla la cassa integrazione guadagni è stata sempre prevista dal nostro legislatore quindi in questo senso non ha colpa solo il governo Conte per determinate aziende quindi aziende industriali aziende commerciali con più di 50 dipendenti avendo nella fase pandemica allargato l'utilizzo della cassa integrazione a tutte le aziende che necessitavano di una sospensione anche forzata in relazione al lockdown sono emerse poi tutte le falle del sistema un sistema che chiaramente necessita a mio modo di vedere quindi in quest'ottica il governo Draghi spero che lo farà di una di un unicum cioè quindi una normativa unica per tutti quasi un testo unico in materia di ammortizzatori sociali e poi l'altra parte rispetto alla quale io sono stato sempre critico e penso appunto l'ho detto nella prima parte di questa trasmissione lo stop ai licenziamenti che è stato fatto anche qui in un'ottica assistenzialistica cioè è stato accollato il problema sociale della pandemia il costo sociale agli imprenditori cioè caro imprenditore ci pensi tu il lavoratore non lo puoi licenziare e perché dico questo? perché posso capire aziende che erano in bonus che si sono ritrovate a dover gestire la fase pandemica quindi chiaramente si è creato uno stop ai licenziamenti che però a mio modo di vedere doveva essere molto temporaneo non allungato quasi a un anno come è stato fatto però non possiamo dimenticare anche questo mi ripeto ma meglio è il caso di rilevarlo che molte aziende prima della pandemia prima del covid che ritrovavano in un periodo di crisi in un periodo in cui comunque avendo in azienda una serie di esuberi di personale necessitavano di interventi quali appunto procedure di licenziamenti collettivi oggi noi abbiamo aziende che sono state costrette ad accollarsi questo costo sociale il 31 marzo avremo una pentola a pressione che potrà scoppiare con tutti gli effetti che sappiamo nel mercato del lavoro perché chiaramente aumenterà come stanno aumentando i dati e appunto la disoccupazione quindi diciamo queste come sono aspetti critici che il governo avrebbe al di là della pandemia potuto gestire diversamente anche prima dico io il governo Conte non è durato un anno di pandemia e a mio modo di vedere lo ripeto si è troppo legato a delle forme assistenziali e poco programmatiche in un'ottica di sviluppo di sostegno alle imprese che poi generano lavoro e occupazione certo quindi insomma misure che potevano essere anche accettabili all'inizio della pandemia ma poi col trascorrere dei mesi effettivamente tutti si aspettavano degli interventi di natura più strutturale ecco dottor Lombardi io vengo da lei e le chiedo entrando più nel dettaglio dell'aspetto del welfare aziendale che affronteremo in questa seconda parte le chiedo appunto che tipo di interventi avete introdotto a livello aziendale prego Sì va bene innanzitutto grazie all'Avvocato perché sicuramente ha fatto un quadro corretto di quella che è la situazione che noi stiamo vivendo e quindi anche qui è ovvio che visto che le ha citato il tema del welfare molte aziende si sono concentrate su questo tema perché sicuramente è stato menzionato prima lo smart working è chiaro che noi ora lo chiamiamo smart working ma in effetti non è il vero smart working perché è ovvio che un lavoro da casa in confinamento è tutto ma non certo come è nato lo smart working perché lo smart working come noi sappiamo nasceva come flessibilità oggi mi è più comodo lavorare da un'altra località che non deve essere casa può essere anche Starbucks come vediamo anche nei film americani oggi invece mi è più comodo essere in ufficio devo fare delle cose che faccio meglio in ufficio quindi vado in ufficio l'obiettivo chiaramente era conciliare grande flessibilità eh per il lavoro con eh vantaggio per il lavoratore oggi è ovvio che essendo una forzatura nello stare a casa come vedete anche io lo sono eh ha delle connotazioni diverse ed è qui che si sono collegate tantissime iniziative di di analisi del welfare perché il benessere del well being del dipendente è un tema che in questo momento ci è particolarmente caro perché eh sicuramente avere un'organizzazione che per la stragrande maggior parte del tempo eh è costretta a lavorare da da remoto e da casa sicuramente sta creando dei problemi su questo noi come azienda a livello mondo abbiamo fatto un sondaggio fra tutti i 50.000 dipendenti dell'azienda per cercare di capire qual era il loro vissuto e come come lo stavano eh gestendo eh e siamo andati ad avere delle conferme chiaramente in termini anche di malessere perché non stiamo a marzo aprile dell'anno scorso siamo quasi a un anno data da quando tutto questo è iniziato con alti e basi e quindi sicuramente il livello di stanchezza si sta si sta facendo sentire lavorare tutti in remoto ha reso più complessi alcuni passaggi e quindi vi era una grande preoccupazione in tema di carichi di lavoro perché a parte la Francia che in questo è particolarmente eh spinta eh nel incitare le aziende a non eh lavorare fuori determinati orari voi sapete anche in Francia la disconnessione quasi forzata in determinati momenti molti dei nostri colleghi ci raccontavano io accendo il computer la mattina dopo colazione lo spengo la sera praticamente a cena tutto questo chiaramente ci sta portando a fare delle valutazioni su che cosa andare a rivedere per evitare che diventi un collegamento continuo tra le tante cose per esempio con grande successo abbiamo messo a disposizione dei dipendenti anche un supporto psicologico devo ammettere all'inizio eh quasi timidamente ci sembrava un po' una cosa strana il doverlo fare poi alla fine abbiamo scoperto sempre nel rispetto assoluto della della privacy delle persone per cui il contatto è diretto tra il professionista e il dipendente che in remoto può accedere a un servizio di supporto psicologico che parecchi colleghi hanno hanno colto e con grande sollievo tant'è che che stiamo valutando di renderlo continuo quindi oltre ad avere il medico aziendale avremo anche lo psicologo aziendale e con tutte queste iniziative altre che stiamo cercando di mettere in piedi vorremmo cercare di eh sorreggere soprattutto psicologicamente eh i colleghi perché ovviamente eh un anno intero di lockdown eh col passare del tempo sta sta incidendo nello stesso tempo pensando ai colleghi di produzione anche lì la fatica psicologica di dover fare un lavoro che ha una componente manuale che quindi non ti consente lo smart working ma nello stesso tempo adottando particolare attenzioni particolari cautele il turno non deve essere eh più affollato di un certo numero di persone sicuramente anche questo con il passare del tempo sta sta creando un dei disagi e abbiamo messo insieme dei gruppi di lavoro proprio per coinvolgere dal basso le persone e vedere di fare delle cose che siano realmente utili ai nostri colleghi eh e non belle solo da raccontare certo insomma molto importante quello che state facendo ha fatto ampio cenno proprio al diritto alla disconnessione qui accennava anche l'avvocato Amendolito nella prima parte della trasmissione ecco avvocato restando in tema di smart working di lavoro agile le chiedo potrebbe avere un futuro anche più istituzionalizzato nel mondo del lavoro nel senso al momento il punto di riferimento è una legge che risale al 2017 e si può dire non un secolo fa ma insomma quasi rispetto a quello che è successo prego sì infatti dicevamo il pregio dell'intervento emergenziale diciamo da parte del governo Conte è stato quello di aver quasi no costretto obbligato le aziende a utilizzare perché proprio recitava così la norma cioè innanzitutto cercare di utilizzare lo smart working per tenere i lavoratori a casa e quindi chiaramente questa cosa ha fatto sì e ho torto collo le aziende hanno fatto i conti con un istituto che esisteva ma non era stato per niente utilizzato ma questo anche per una reticenza è capitato proprio a alcuni casi aziendali anche della stessa parte sindacale cioè i sindacati non erano molto più che altro perché c'è anche un motivo non avevano il controllo diretto sindacalmente parlando dei lavoratori perché a casa no? quindi la reticenza è stata nell'utilizzo di questo anche da parte delle organizzazioni sindacali oggi lo smart working molte aziende hanno che addirittura erano restie proprio all'utilizzo oggi stanno basando il loro progetto futuro anche sull'utilizzo massiccio dello smart working però è emerso anche proprio nelle singole organizzazioni aziendali la necessità emersa la necessità di di una modifica di alcune modifiche rispetto all'asset istituzionale normativo dello smart working uno di questi appunto io dicevo nella prima parte mi sono soffermato sul controllo sul potere di controllo datoriale che deve essere comunque regolamentato ed è necessario non perché c'è no? la voglia dell'imprenditore di guardare controllare ma per evitare la diciamo il divieto diciamo di incappare nel divieto statutare dello statuto dei lavoratori del controllo dell'attività lavorativa io credo che sia il caso di creare una disciplina sull'istituto perché il controllo consente la gestione delle performance dei lavoratori stessi e poi l'altro aspetto che è stato appunto citato anche dal dottor Lombardi il diritto alla disconnessione in Francia esiste l'obbligatorietà quindi ma è una un'esigenza che l'intero tutto il diciamo il legislatore comunitario ha avvertito da da sempre noi non abbiamo mai fatto caso a questo appunto perché non utilizzavamo l'istituto oggi il diritto alla disconnessione è importante anche questo va regolamentato in questo momento le aziende stanno operando con un fai-da-te attraverso la contrattazione collettiva aziendale si stanno creando delle vere e proprie regole di comportamento di gestione dello stesso istituto affiancato allo smart working e il dottor Lombardi l'ho anche accennato va comunque diciamo ci si deve dare anche da fare nell'ottica del welfare aziendale cioè questo bilanciamento del questa esigenza di bilanciare il lavoro con le esigenze familiari le esigenze di vita del lavoratore diventano sempre più importanti proprio per evitare quello che poi sta succedendo l'ho anche detto il dottor Lombardi c'è molto lavoro per i psicologi in questo momento e questo anche dovuto al covid quindi uno sguardo allo smart working ma anche al welfare aziendale in maniera tale da fare da creare sempre di più quella priorità del del benessere del lavoratore sotto il profilo non solo fisico ma anche psichico questo può portare solo valore aggiunto per le aziende e per le imprese perché chiaramente il lavoratore contento questo lavora meglio e quindi chiaramente questo si sviluppa con un effetto domino rispetto a quello che è proprio la produttività maggiore dell'azienda Certo c'è anche però il discorso della produttività che non è assolutamente secondario nel funzionamento proprio dei modelli di smart working oltre appunto che è strettamente collegato al benessere del personale e le chiedo dottor Lombardi qual è stata la risposta rispetto ai vostri piani di smart working? Ma qui qui mi riallaccio al discorso anche che facevo l'avvocato una cosa è quello che stiamo facendo oggi una cosa quello che faremo che faremo in futuro sicuramente oggi la grande sofferenza nasce dalla obbligatorietà dello smart working e quindi qui entriamo poi nelle dinamiche singole e personali dei singoli colleghi dei singoli dipendenti per cui è ovvio che lo smart working può essere un grandissimo vantaggio per una persona che per esempio stando a casa può accudire determinate situazioni può essere una situazione invece molto stressante per una coppia entrambi lavorano entrambi smart working due figli adolescenti entrambi in dad in didattica a distanza che voi comprendete come sicuramente ognuna di quelle persone non vedrà l'ora di tornare un ufficio o una scuola perché vivono ognuno in una stanza cercando di sopraffarsi nel wifi di casa quindi anche qui noi siamo un'azienda che aveva già istituito lo smart working prima che vivessimo l'esperienza del covid quindi sicuramente su questo eravamo già un passettino avanti è ovvio che in questa situazione abbiamo portato lo smart working all'estremo del suo utilizzo io sono convinto che una volta che ci saremo stabilizzati e si tornerà a una situazione diciamo di normalità anche qui lo smart working ritornerà a una condizione di normalità per cui ci saranno persone noi per esempio abbiamo previsto la possibilità di fare due giorni di smart working ogni settimana ci saranno persone che li faranno tutti e due i giorni ogni settimana e ci saranno persone che invece non ne faranno nemmeno uno anche qui io sono che alla fine dell'emergenza ci saranno le che potremo tornare in ufficio liberamente sul finicolo del numero limitato di persone in accesso si fionderanno in ufficio e altri colleghi ai quali scherzosamente dovremmo mandare la forza pubblica per farli uscire togliersi la tutta e rivestirsi in un abbigliamento consono al lavoro anche qui chiaramente il bello come sempre è la libertà ed è qui che dovremmo rimpadronirci quello che quello che sta pesando ed è il motivo per il quale sta avendo tanto successo il il supporto psicologico è la forzatura la forzatura l'essere reclusi a casa come dicevo prima smart working può voler dire anzi può voler dire stare anche all'aria aperta essere connessi come approfittare di una situazione in cui mi trovavo lì e mi sono messo a lavorare questo è il concetto dello smart working e quindi anche qui non vediamolo ora perché questo vorrà dire che siamo usciti da questa situazione emergenziale di poter tornare a occuparci del vero smart working del vero well being dove ovviamente faremo tesoro dell'esperienza che abbiamo vissuto ci sono delle cose dove abbiamo toccato con mano qual è il vero interesse delle persone ci sono altre cose che butteremo alle ortiche velocemente sperando di non dovercene più certo e quello che speriamo tutti è anche che questo nuovo governo colga l'occasione insomma per anticipare i tempi e il insomma quello che tutti ci auguriamo il ritorno alla normalità diceva l'avvocato spero che il nuovo governo se vedrà la luce eh esca da una logica di emergenza esatto ma ma inizia a guardare lontano perché altrimenti se domani l'emergenza finisse immagino un film di fantascienza domani non c'è più niente ma noi non abbiamo preparato niente per il domani non c'è più niente e certe volte ti viene la sensazione quasi che si speri che questa cosa vada avanti perché ormai ci siamo abituati a gestire questa situazione che rigestire la normalità eh potrebbe anche suscitare preoccupazione ma la vera preoccupazione che ho è è un po' come dire una persona eh guarda devi eh trattenere l'espiro per un minuto peccato che tu ti risponde guarda che io ce la faccio per 30 secondi dopo 30 secondi non ce la faccio più ma no non importa tu mantieni un minuto e andrà tutto bene il rischio che quando scade il minuto quel tizio sia morto e la sfissia esatto questa è un po' la preoccupazione dopo un anno eh di di emergenza continua assolutamente la prima prova sarà chiaramente il blocco dei licenziamenti bene io vi ringrazio per essere stati con noi andrei avanti chiaramente ancora per parecchio tempo ma purtroppo non ne abbiamo più ringrazio l'avvocato Francesco Mendolito grazie a voi grazie il dottor Alfredo Lombardi anche da Italia grazie grazie mille a presto grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di doppio binario